orientamento alle cure all'estero queste linee guida sono create per assicurare un'esperienza fluida e senza stress per i nostri pazienti durante il loro soggiorno e trattamento presso le cliniche del gruppo quella osservanza contribuirà un'esperienza più serena e organizzata per tutti vediamo la sezione appunto del dipartimento logistico appartimenti e hotel check in e check out è fondamentale avvisare in anticipo il dipartimento logistico o l'hotel riguardo gli orari di check in e check out quindi ingresso e uscita questi sono orari che devono essere concordati con il dipartimento logistico per assicurare un'organizzazione fluida è importante per i pazienti con i biglietti aerei flessibili informare tempestivamente il dipartimento riguardo eventuali cambiamenti o l'hotel evitare quindi di lasciare l'hotel e l'appartamento anticipatamente senza avvisare coordinamento col medico consultare il medico per determinare appunto la durata necessaria per la permanenza specialmente nel caso di chi deve eseguire interventi di chirurgia maxillo facciale sedazione cosciente o anestesia generale in genere questi sono pazienti che devono fare degli esami aggiuntivi e quindi possono esserci dei necessità di una permanenza più lunga o di spostare il biglietto di partenza per questo in genere arrivano coi biglietti aperti questo è cruciale per programmare adeguatamente sia il soggiorno negli appartamenti che appunto modificare i biglietti aerei responsabilità finanziare si evidenzia quindi che vi sono stati casi di pazienti che hanno lasciato gli alloggi senza saldare il dovuto e tali situazioni poi hanno portato a delle penalizzazioni se un paziente decide di partire prima della data del check out prevista verrà comunque addebitato l'intero importo del soggiorno se non si va a avvisare per tempo quindi fate molta attenzione per quanto riguarda i pagamenti presso le strutture alberghiere o gli appartamenti il pagamento e per gli hotel è richiesto all'arrivo del paziente per gli appartamenti stessa cosa è concesso una tolleranza di massimo un giorno con saldo obbligatorio entro mezzogiorno del giorno successivo nel caso il paziente non provveda al pagamento sappiate che sarà invitato a lasciare l'appartamento o l'hotel alla stanza dell'hotel il metodo di pagamento preferito è i contanti presso gli appartamenti o con carta presso le strutture alberghiere in valuta locale o in euro si consiglia ai pazienti di arrivare già con la somma necessaria di modo da velocizzare il processo di check in dipartimento logistico può assistervi nel cambio della valuta indicarvi dove trovare un bancomat o un cambio di valuta dunque per prelevare o cambiare i soldi gestione degli alloggi assistenza e manutenzione per qualsiasi problema relativo agli appartamenti o agli hotel rivolgiti esclusivamente al dipartimento logistico e sottolineo che le richieste logistiche non devono essere indirezzate per esempio ai dipartimenti della clinica che si occupano esclusivamente di questioni mediche per quanto riguarda le raccomandazioni alimentari consiglio vivamente ai pazienti di non cucinare negli appartamenti soprattutto dopo essere stati operati è preferibile consumare pasti presso ristoranti consigliati optare per un takeaway o pasti da asporto pronti evita di utilizzare utensili della cucina bicchieri forchette posati evita di così le trasmissioni di malattia dopo tutto se in un ambiente ospedaliero come in ospedale i pasti vengono consumati con porzioni e strumenti monouso gli appartamenti sono pensati per garantire un soggiorno confortevole ma è importante considerare che siete in una struttura dove ci sono molti pazienti conferite in bocca ok quindi fai molta attenzione a questo fumo in appartamenti fai attenzione perché è divieto di fumo sia in moldavia che in romania assolutamente vietato fumare negli appartamenti e negli hotel come è proibito fumare nei ristoranti taxi bus o aerei violazione del divieto in caso di violazione al momento del check out fa attenzione perché viene se si denota che il paziente abbia fumato in appartamento in hotel viene applicato una sanzione perché ci sono delle spese poi per bonificare l'appartamento che potrebbe anche addirittura restare inutilizzato per una settimana e questi sono dei costi da sostenere per la struttura dove invece si può fumare si ricorda che esistono delle aree apposite per fumare e c'è una legge che vieta anche di fumare a meno di 10 metri da ristoranti e attività commerciali vediamo adesso trasporto e logistica trasporto per l'aeroporto del dipartimento logistico contatta tutti i pazienti il giorno prima della partenza quindi quando si fa il check out in assenza di contatto è consigliabile rivolgersi direttamente al dipartimento logistico appunto per concordare l'orario di partenza chi usufruisce di questo trasporto il servizio è riservato ai pazienti che alloggiano nelle strutture convenzionate per gli altri si consiglia l'utilizzo di servizi taxi il dipartimento logistico può aiutarvi a installare le applicazioni per i taxi o chiamarvi un taxi vediamo le aspettative dei servizi e delle strutture alberghiere ci sono delle regole nelle strutture ogni struttura ha le sue a seconda della classificazione e ubicazione ci sono delle aspettative delle volte ci siamo resi conto negli anni che delle volte non coincidono con quella che è la struttura infatti si invita a mantenere delle aspettative realistiche in base al tipo della classificazione della struttura ad esempio non si possono avere delle aspettative da hotel 5 stelle in un albergo da 3 stelle televisioni e connettività non tutti gli appartamenti hotel offrono la tv italiana ma sono comunque tutti dotati di wifi consentono quindi al paziente di accedere ai contenuti online tramite smartphone o tablet o computer come gestiamo invece le chiavi al momento del check out fa attenzione perché al momento della partenza è obbligatorio restituire le chiavi degli appartamenti e anche le tessere magnetiche al personale logistico dell'hotel o degli appartamenti perché la mancata restituzione comporterà una penalità danni e furti non evitati danni e sottrazioni di arredi o dotazioni nelle stanze essi che siano hotel o appartamenti perché anche qua ci saranno delle multe delle penalizzazioni sicurezza privacy e attività illegali sconsigliamo vivamente di prenotare in strutture non consigliate in moldavia in romania sono verificati casi di furti in assenza degli ospiti e o rapine a turisti durante la loro presenza tratti da prezzi bassi da sedicenti fornitori di servizi che si spacciavano per nostri partner prima di procedere al pernotamento consigliamo sempre ogni ospite di chiedere conferma al dipartimento logistico estrani in appartamento hotel non introdurre estrani nelle strutture ricettive per motivi di sicurezza e rispetto delle norme in passato ci sono stati casi di danneggiamento o situazioni di pericolo causate da ospiti non autorizzati i proprietari delle strutture non sono mai responsabili di eventuali furti o rapine dentro alle strutture che in passato si sono verificati a causa dell'introduzione in appartamento di estrani video di sorveglianza quindi le strutture sono equipaggiate con telecamere negli spazi comuni per monitorare gli accessi e registrare eventuali movimenti sospetti le immagini della video sorveglianza possono essere usate per indagini in caso di reato attività illegali si sottolinea che attività quali la prostituzione o l'assunzione di stupefacenti sono illegali e punibili sia in moldavia che in romania e le prove video possono essere utilizzate in procedimenti legali qualora ci sia evidenzia di introduzione di estranei nelle strutture ricettive quindi fai molta attenzione vediamo adesso la sezione trasporti da e per l'aeroporto esiste un transfer gratuito il servizio di trasferimento è disponibile esclusivamente per i pazienti che alloggiano nelle strutture convenzionate con i nostri policlinici come raggiungere l'aeroporto in autonomia per i pazienti che non alloggiano nelle nostre strutture convenzionate raccomando di utilizzare di organizzare il trasferimento in autonomia prenotando un taxi per quanto riguarda le strutture convenzionate la scelta di hotel e appartamenti convenzionati mira a offrire servizi sicuri economicamente vantaggiosi e logisticamente efficienti quindi vicino alla clinica le strutture convenzionate vengono sconsigliate e sconsigliamo quindi ai pazienti di scegliere alloggi in autonomia situati soprattutto in zone distanti dal policlinico in quanto non saremo in grado di fornire servizi di trasporto da e per l'aeroporto e soprattutto per la clinica con rischio di ritardi enormi per gli appuntamenti in clinica a causa degli spostamenti per la città necessari sono città molto trafficate quelle in moldavia romania trasferimenti tra città ricordiamo che i trasferimenti tra le città dove sono presenti le cliniche del gruppo sono sempre a carico del paziente in qualsiasi caso assistenza per il taxi l'assistenza del dipartimento logistico può aiutare nell'installazione nell'utilizzo delle app necessarie per prenotare un taxi con facilità sono applicazioni semplicissimi da usare invitiamo i pazienti a muoversi in città autonomamente utilizzando i servizi taxi che offrono tariffe economiche variabili tra 1 euro e 50 e 4 euro le app per il telefono per i taxi sono veramente semplici da usare non richiedono la conoscenza della lingua locale il dipartimento experience organizzerà attività ed escursioni sia durante il weekend che infrasettimanali per i nostri pazienti è possibile consultare il calendario delle attività settimanali e delle escursioni locali turistiche coordinandovi col dipartimento logistico per organizzarle e trovate queste nella reception e anche al dipartimento experience e logistico i taxi sono una soluzione conveniente sia in moldavia che in romania i trasporti ricorda sono sempre a pagamento e comunicati in anticipo dal dipartimento experience telefono e contatti di emergenza durante dopo le cure queste indicazioni sono pensate per garantire ai nostri pazienti un'esperienza fluida senza problemi durante dopo il loro trattamento si prega di seguire queste linee guida per assicurarsi un'assistenza efficace e tempestiva in ogni circostanza quindi assistenza durante la permanenza esistono diversi dipartimenti durante il soggiorno avrete a disposizione assistenti nei vari dipartimenti per affrontare le questioni quotidiane per quanto riguarda l'assistenza clinica per questioni cliniche quindi del vostro piano di cura delle cure fate riferimento all'assistente di percorso clinico conosciuto all'inizio delle cure per quanto riguarda i problemi con l'hotel dell'appartamento trasporti assistenza logistica elettricità acqua dotazioni degli appartamenti delle stanze rivolgetevi al dipartimento logistico e non rivolgetevi alla clinica per questioni non cliniche e viceversa per tutti i problemi con l'hotel rivolgetevi alla reception dell'hotel assistenza experience per attività iniziative extra cliniche visite escursioni contattate il dipartimento logistico vediamo ora i contatti e numeri di emergenza dove li trovi i contatti sono disponibili alla reception delle cliniche presso il dipartimento logistico dove avete fatto il check-in per quanto riguarda le emergenze notturne abbiamo medici di guardia pronti a intervenire per urgenze come sanguinamenti eccessivi problemi postoperatori utilizzate il numero di emergenza fornito dalla clinica per quanto riguarda invece l'emergenza i problemi dopo le cure una volta tornati in italia per qualsiasi dubbio problema post cura potete rivolgervi al dipartimento customer service e after care disponibile all'indirizzo www.igiene.drpalmas.com qua troverete i numeri di contatto per quanto riguarda il telefonino incomodato d'uso per i pazienti che ricevono un telefono incomodato d'uso gratuito durante il soggiorno specialmente in genere per chi viaggia verso il policlinico della moldavia in caso si scarichi puoi portarla al dipartimento logistico per ricaricarlo e ricordiamo che questo deve essere lasciato al dipartimento logistico prima della vostra partenza un debitare che vi venga debitato reperibilità è importante mantenere il telefono sempre carico esso che sia sia incomodato d'uso oppure che stiate usando durante la permanenza il vostro telefono di modo da poter ricevere comunicazioni sugli appuntamenti della clinica il dipartimento clinico non sarà responsabile di eventuali ritardi sulle lavorazioni nel caso non siate reperibili dunque state sempre in reperibilità massima al telefono vediamo il roaming internazionale i pazienti che possono attivare il roaming si consiglia di farlo i servizi di roaming sono disponibili in tutta europa e quindi è possibile utilizzare chiamare a casa o navigare comodamente su internet alle tariffe nazionali senza supplementi in genere i pazienti che non hanno il roaming in moldavia viene data loro una sim telefonica dati gratuitamente verifica prima di partire per l'estero con il tuo operatore questa opzione a ogni modo i pazienti che viaggiano ricorda quindi moldavia possono andare al dipartimento logistico dove verrà loro consegnata gratuitamente una sim con dei gigabyte di dati come chiamare a casa usa i servizi in roaming per internet mobile e le chiamate oppure comunica tramite whatsapp o skype vediamo la sezione del dipartimento experience queste sono informazioni progettate per rendere il vostro soggiorno il più piacevole agevole possibile combinando cure mediche di alta qualità con un'esperienza arricchente e confortevole vediamo quello che il programma experience settimanale innanzitutto al vostro arrivo vi verrà dato il kit di benvenuto un assistente del dipartimento experience vi accoglierà fornendovi una panoramica introduttiva chiavi e telefonino riceverete le chiavi dell'appartamento un telefono incomodato d'uso se previsto o su richiesta in genere queste moldavia non in romania una mappa della città il programma settimanale delle attività sessione di orientamento sarà invitata a partecipare alla sessione di orientamento giornaliera al dipartimento experience dove riceverai un braccialetto che garantisce l'accesso ai vari vantaggi ci sarà poi la visita alla divisione ricerca e sviluppo vengono organizzate visite guidate alla divisione di ricerca e sviluppo dove potrete conoscere il processo produttivo delle arcate dentali con sistema bocca bionica durante la visita vi sarà spiegato ogni dettaglio delle diverse linee dentali riceverete materiali informativi e brochure anche sul servizio finanziadenti domande tecniche per domande tecniche rivolgiti direttamente al tuo medico ai tecnici della clinica piuttosto che agli assistenti del dipartimento experience attività serali infrasettimanali durante la settimana il dipartimento experience organizza attività serali per distrarre i pazienti dalla routine clinica consulta il calendario delle attività disponibili alla reception del dipartimento experience e logistico ci saranno poi delle escursioni durante il weekend ogni weekend sono previste escursioni in città questo per distrarsi tieni d'occhio il calendario per non perdere le attività programmate per domande riguardo viaggi escursioni rivolgiti esclusivamente al dipartimento experience e non a quello clinico è possibile anche fare attività estreme in moldavia romania offriamo attività come voli mongolfiera acrobazie aeree tiro a segno e giri in bicicletta se interessati a personalizzare il vostro soggiorno con un'attività estrema parlane con l'assistente del dipartimento experience per organizzare ovviamente in anticipo vediamo le raccomandazioni sul mangiare per l'alimentazione non cucinare in appartamento durante il soggiorno evita di cucinare nell'appartamento per motivi di igiene sicurezza evita di prenderti infezioni o malattie con le ferite che hai in bocca ti ricordo che gli appartamenti gli hotel dove alloggi possono aver alloggiato prima di te altre persone con ferite in bocca quindi cerca di usare il monouso, di ordinare da mangiare al ristorante, ordinare l'asporto, fare il take away o di evitare di usare insomma dotazioni delle cucine che non siano monouso allergie e intolleranze in ogni città esistono market che vendono prodotti per pazienti speciali che soffrono di celiacchia, intolleranze chiedi all'assistente del dipartimento logistico o in reception agli hotel sono disponibili video informativi comunque miei sui ristoranti economici dove poter mangiare per ridurre le spese di soggiorno o chiedi direttamente agli assistenti logistici e di experience gestione finanziaria è consigliabile portare una quantità adeguata di denaro per coprire le spese durante il giorno dall'estero utilizza carte di credito per i ristoranti o preleva direttamente in contanti in valuta locale dai bancomat non serve portarsi gli euro per cambiarli basta semplicemente inserire la carta di credito al bancomat e prelevare direttamente in valuta dove invece puoi cambiare i soldi qualora tu venga con i contanti con gli euro esistono i cambi valuta chiedi consiglio al tuo assistente experience o logistico per trovare i migliori tassi di cambio per quanto riguarda supporto per la spesa per assistenza nella spesa quotidiana puoi chiedere dove quindi trovare i market all'assistente experience o al dipartimento logistico che vi indicheranno dove poter fare acquisti a prezzi ragionevoli vicino alle cliniche vediamo ora le raccomandazioni per i pazienti della divisione experience vi incoraggiamo a seguire queste raccomandazioni per garantirvi un soggiorno sicuro piacevole e arricchente la vostra cooperazione e comprensione sono fondamentali per il successo del vostro trattamento e la qualità del vostro soggiorno nel suo complesso evitare situazioni spiacevoli mantenete un atteggiamento prudente durante la vostra permanenza specialmente essendo in un paese straniero non familiare evitare situazioni di rischio come addescamenti da parte di truffatori in passato abbiamo avuto casi di pazienti coinvolti in situazioni problematiche come richieste di somme esorbitanti di denaro per consumazioni al nightclub un ruolo degli assistenti experience loro sono disponibili per rendere il vostro soggiorno piacevole ma non agiscono come assistenti personali per attività quali accompagnamento ai ristoranti o ai centri commerciali richieste agli assistenti formulate richieste nei limiti del ragionevole evitando di sovraccaricarli e limitando la loro disponibilità verso altri pazienti attività durante la vacanza anche durante le fasi di attesa per l'applicazione dei denti provvisori o definitivi è fortemente consigliato partecipare alle attività escursionistiche e anche quelle infrastruttimanali facendo aggregazione con i pazienti queste sono esperienze che contribuiscono a un recupero più sereno e piacevole vivi in gruppo unisciti a gruppi per attività all'aperto è preferibile rispetto a rimanere isolati in appartamento cene e pranzi di gruppo durante cene e pranzi di gruppo organizzati dal dipartimento experience ricorda che il conto delle cene o dei pranzi viene generalmente diviso equamente tra i partecipanti le eccezioni sono permesse solo per bottiglie di vino per le quali è possibile richiedere un conto separato scegliete ristoranti con prezzi ragionevoli per evitare conti eccessivi solitamente i ristoranti si rifiutano di fare la divisione poi alla fine della cena o del pranzo tra 20-30 persone che erano sedute al tavolo questionario di valutazione prima della vostra partenza vi sarà fornito un questionario di valutazione riguardante il personale clinico gli alloggi, le attività experience questi feedback sono estremamente importanti per noi e hanno contribuito a rendere la nostra clinica quella con le migliori recensioni in Europa negli anni dedica tempo alla compilazione del questionario includendo suggerimenti, proposte e quindi anche idee molte delle nostre migliorie derivano proprio dai consigli dei nostri pazienti che ci sono stati dati in passato vediamo ora il dipartimento clinico processo di cura arrivo in clinica all'arrivo per le cure i pazienti incontreranno l'assistente di percorso clinico questa figura li guiderà attraverso tutte le fasi del trattamento e agevolerà la comunicazione con l'equipe medica l'assistente clinico gestirà ogni fase dalla prima visita alla conclusione del trattamento spiegando il piano di cura e fornendo la documentazione finale ruolo dell'assistente di clinica l'assistente di clinica è il riferimento per tutte le questioni mediche per domande non cliniche come alloggio o attività, escursioni è opportuno contattare il dipartimento logistico ed experience l'assistente di clinica può organizzare incontri col medico e l'equipe per chiarimenti sul trattamento è il punto primario per dubbi e domande sul piano di cura l'importanza di seguire consigli medici è fondamentale affidarsi all'equipe medica per informazioni accurate evitando di basarsi su consigli di altri pazienti o su fonti non ufficiali ogni caso clinico è unico quindi le informazioni e i consigli devono essere personalizzate in base alle specifiche condizioni di salute di ogni paziente a chi chiedere consigli medici? ci sono pazienti che richiedono uno specifico dottore vi ricordiamo che ogni membro della nostra equipa ha seguito già migliaia di pazienti con casi estremi i denti arrivano sempre dalla stessa divisione ricerca e sviluppo il medico è un po' come il cameriere la cucina è sempre la stessa con gli stessi cuochi per tutte le cliniche e tutti i pazienti oltretutto il sistema bocca bionica che fa affidamento sui nostri protocolli di telemedicina intelligenza artificiale e produzione robotica permettono di personalizzare ogni singolo caso grazie a processi standardizzati e rodati per 10 anni su più di 10.000 pazienti qual è la protesi migliore? questa è una domanda che mi fanno spesso non esiste una protesi migliore in senso assoluto ma la protesi più adatta a ogni singolo paziente prima di prendere questa decisione è importante discuterne col proprio medico il protesista che valuterà la posizione degli impianti inseriti lo spazio disponibile per simulare i nuovi denti la dimensione del viso e conoscendo gli obiettivi e desideri del paziente consiglierà la soluzione più idonea evita di affidarti al dottor google o a consigli di altri pazienti ogni situazione ripeto è unica e richiede una valutazione professionale specifica vediamo le procedure all'arrivo all'arrivo verranno effettuati esami preliminari come i prelievi di sangue fondamentali per valutare i parametri necessari prima di qualsiasi intervento seguiranno procedure diagnostiche come l'attac tridimensionale le fotografie del viso, della bocca, dei denti utili per creare il dossier digitale del paziente questo dossier sarà accessibile a tutto il personale medico coinvolto nel trattamento sia nella clinica attuale che in eventuali altri sedi per le fasi successive del trattamento o addirittura per il mantenimento post cure consensi informati ricordiamo di leggere attentamente tutti i consensi informati per evitare dubbi o domande già chiarite in questi documenti troverete informazioni dettagliate sulle terapie da eseguire comprese alternative tempi di cura e rischi associati per qualsiasi domanda tecnica ricordatevi di fare sempre riferimento alla vostra equip di cura per quanto riguarda le analisi mediche molti pazienti arrivano con analisi già eseguite nel proprio paese ma noi richiediamo sempre di rifarle specialmente per pazienti che devono sottoporsi a sedazione cosciente o anestesia generale in passato abbiamo avuto tantissimi casi di discrepanze tra i risultati delle analisi portate dal paziente e quelle che poi avevamo effettuato nelle nostre cliniche di riferimento su cui l'equip può avere piena fiducia questo è nell'interesse non solo del singolo paziente ma anche di tutti gli altri ti faccio un esempio supponiamo che un paziente ovviamente venga con un risultato di test HIV negativo falso e l'equip si affidi su questo esame clinico noi abbiamo l'obbligo di dover rieseguire questi esami per avere la certezza dei risultati perché facciamo i nuovi test? se vi chiediamo di rifare le analisi è per la vostra sicurezza e quella di tutti gli altri in Moldavia e Romania i tempi per eseguire queste analisi sono generalmente più brevi rispetto al vostro paese evitando ritardi rischiosi raccolta di sangue per le analisi ricordiamo che la raccolta del sangue per le analisi avviene sempre la mattina presso le nostre cliniche cercate di non mancare o di arrivare tardi sedazione e anestesia generale ricordiamo che i servizi di sedazione sono a discrezione del medico previo consulto con l'anestesista la sedazione e anestesia generale ha un costo in genere di 997 euro il paziente può fare presente questo all'assistente di clinica che comunicherà l'equip per la situazione da valutare assieme all'anestesista per quanto riguarda gli appuntamenti in clinica questi vengono dati in tempo dal dipartimento di clinica non ti preoccupare se ci sono ritardi ho dato io personalmente ordine all'equip di terminare ogni fase di cura di chirurgia e protesica esattamente quando è il momento di terminare non prima e non dopo come in un ristorante non è possibile avere i tempi precisi di cottura per ogni singolo piatto ci sarebbe il rischio per fare un esempio che una bistecca uscisse dalla cucina cruda oppure troppo cotta durante gli interventi variazioni che possono portare una chirurgia o un atto protesico che può durare di più o di meno del tempo previsto sono all'ordine del giorno se ci sono ritardi questa è la conferma che l'equip si dedica a ogni singola fase con attenzione nei tempi dovuti come vengono organizzati e regolati gli appuntamenti vi ricordiamo che gli appuntamenti vengono dati dalla clinica giornalmente verificando gli orari ritardi di ogni singolo appuntamento cercate di rimanere reperibili al telefono così da poter procedere in maniera fluida col percorso di cura variazioni del piano di cura e pagamenti ricordiamo che la quotazione ricevuta a distanza è solo una stima un'ipotesi solo dopo la visita gli esami diagnostici sarà possibile definire esattamente le vostre necessità la radiografia ad esempio non mostra le gengive o le dimensioni del viso né i denti che si muovono o quali fanno male non si vedono dalla radiografia tutti questi sono dati però essenziali per definire il trattamento definitivo che verrà discusso tenendo conto dei desideri e obiettivi del paziente come vengono gestite eventuali variazioni economiche in caso di differenze nel piano di cura rispetto alla quotazione iniziale se il piano di cura costa meno il dipartimento finanziario predisporrà i documenti per il trasferimento bancario dei fondi residui sul vostro conto se il piano di cura costa di più il saldo dovrà essere eseguito e non oltre il secondo viaggio metodi di pagamento non vengono concesse eccezioni riguardo al metodo di pagamento in unica soluzione nessun paziente può iniziare le cure senza aver saldato l'importo indicato nella quotazione ricevuta a distanza in partenza e consigliato ai pazienti di effettuare un bonifico prima di arrivare in clinica almeno 10 giorni prima per garantire che i fondi siano disponibili sui nostri conti al momento dell'arrivo pagamento in unica soluzione ricordiamo che presso le nostre cliniche si adotta la politica del pagamento in unica soluzione anticipata questo perché gran parte dei lavori vengono realizzati già dal primo viaggio e per mantenere questi prezzi e questa tecnologia è necessario eseguire acquisti di materiali in stock inoltre quando tornerete dopo la fase dei provvisori noi dobbiamo già aver acquistato mesi prima tutti i materiali per i denti definitivi necessari avendo oltre 800 pazienti curati ogni mese per struttura non è possibile ricevere il pagamento dei denti definitivi 10 giorni prima e ordinare i materiali necessari subito dopo un paziente che può eseguire il pagamento in unica soluzione inoltre si impegna anche a terminare le cure questa è una questione di correttezza nei confronti della persona per assicurarci che non vada poi in giro senza denti perché magari non aveva il budget completo per iniziare e finire le cure cosa fare se non si dispone di tutti i soldi in questi casi è sempre consigliabile aspettare un anno o due per mettere da parte i soldi necessari a eseguire tutte le cure il pagamento in unica soluzione è richiesto perché eseguiamo gran parte del lavoro in anticipo e dobbiamo ordinare i materiali ben prima non una settimana prima in questo modo lavoriamo con pazienti che sono impegnati a terminare le cure questa pratica assicura che tutti i pazienti ricevano il trattamento necessario in modo efficiente e che la clinica possa fornire i materiali e le migliori cure di alta qualità senza interruzioni vediamo i pagamenti consigliati ricordiamo che presso tutte le nostre strutture si eseguono pagamenti trasparenti consigliamo ai nostri pazienti di eseguire i pagamenti tramite bonifico evitando così il pagamento di tasse accessorie sull'utilizzo della carta di credito inoltre si consiglia di non ritardare l'inizio delle cure a causa di eventuali limiti di pagamento mensili o giornalieri delle carte di credito i quali possono richiedere tempo per essere sbloccati non essere immediatamente accreditati sui nostri conti e quindi magari arrivare a fine della vacanza che ancora i soldi non sono arrivati o non ci sono i giorni necessari per eseguire le cure per questo il metodo di pagamento che noi consigliamo è sempre il bonifico oltre questo l'equip non può iniziare le cure finché i fondi non sono ricevuti detrazione del 19% per cure con metodo tracciato il pagamento una volta eseguito viene documentato con una fattura che il paziente può presentare in Italia per detrarre il 19% delle tasse sulle spese mediche sostenute all'estero solo i pagamenti tracciabili come bonifici e carte di credito possono essere detratti se il pagamento viene eseguito in contanti sappiate che non sarà possibile detrarlo dalle tasse anche presentando la fattura la fattura è sempre rilasciata in italiano proprio per evitare la necessità di traduzioni nel vostro paese o in inglese per richieste di documenti particolari invitiamo i pazienti a rivolgersi all'assistente di percorso clinico della clinica evitate di porre domande di tipo contabile al dipartimento logistico experience vediamo le tempistiche di cura quanti giorni sono necessari per la prima fase per la prima fase di cure sono sempre necessari sette giorni a meno che non ci siano condizioni cliniche che richiedano sedazione cosciente anestesia generale o esami da eseguire prima di queste in questi casi consigliamo di prendere almeno altri due o tre giorni in più o nei casi più gravi con patologie associate di venire col biglietto aperto in modo da poter cambiare in maniera flessibile la data di rientro quanti giorni per eventuali altre chirurgie in alcuni casi rari è necessaria una seconda chirurgia durante questa sono necessari sette giorni o come sopra nel caso di analisi accessori prendete sempre due o tre giorni in più per un biglietto aperto in genere questi sono pazienti che hanno gravi infezioni che è meglio far guarire prima o basi osse che è meglio si assistino prima di mettere tutti gli impianti quanti giorni per la fase finale per la fase dei denti definitivi vi ricordiamo che possono essere necessari dai 10 ai 14 giorni concordate sempre col vostro medico i giorni di permanenza necessari per eseguire tutte le prove necessarie e arrivare così alle arcate dei denti definitivi perfetti dai il tempo all'equip di lavorare bene esistono casi di riabilitazione al dettaglio come quelli in cui si devono mettere corone faccette mantenere denti mettere impianti queste lavorazioni sono molto più lunghe e laboriose per cui sono richieste due settimane per la tappa finale durante questa fase andremo a eseguire tutte le prove necessarie al fine di ottenere il miglior risultato possibile limitando il rischio di rotture o imprecisioni vi ricordiamo che queste due settimane sono un investimento per un lavoro che poi durerà oltre 30 anni evitate dunque di mettere fretta o avere fretta perché qualche giorno in più di permanenza è il miglior investimento che puoi fare per ottenere un lavoro migliore quindi avrete investito meglio i vostri soldi il tempo e l'energia fisica lontana da casa prove per i definitivi ricordiamo che ogni linea dentale ha le sue procedure che sono comunque a discrezione del medico e garantite entro un limite se il paziente desidera effettuare ulteriori prove è possibile ma dovrà modificare i biglietieri di ritorno e pagare per queste prove aggiuntive quanti giorni bisogna stare senza i denti durante la fase protesica i denti provvisori vengono rimossi per realizzare i denti definitivi spesso è necessario cambiare dei pezzi di avvitamento sopra gli impianti delle protesi per questo motivo non è possibile riutilizzare i denti provvisori una volta smontati con cui il paziente è arrivato quindi può capitare che il paziente passi diversi giorni senza i denti al fine di realizzare delle arcate definitive precise correttamente posizionate poi in bocca sugli impianti durante questi giorni il paziente deve indossare una mascherina e seguire un'alimentazione morbida e liquida che non traumatizzi le gengive questa eventualità non è la norma ma può capitare vediamo ora la fine delle cure il primo controllo e il mantenimento documenti finali quando vengono consegnati i denti ai nostri pazienti vengono consegnati anche i documenti di fine cure il passaporto implantare e tutti i documenti di corredo cosa copre la garanzia ricordiamo che il policlinico non rimborsa mai i costi di volo e alloggio poiché questi rientrano nel protocollo di terapia che include la visita di controllo dopo i sei mesi la garanzia copre il rifacimento del lavoro ma non i costi di volo e alloggio che sono sempre a carico del paziente ad esempio se un paziente dalla Sicilia si cura il San Raffaele di Milano e poi riscontra un problema il San Raffaele non copre il costo del volo per Milano il paziente può scegliere di curarsi vicino a casa se lo desidera o altrove in un'altra città tour della divisione ricerca e sviluppo infine per chiarire ogni dubbio tecnico è importante partecipare ai tour settimanali della divisione ricerca e sviluppo dove è possibile ottenere informazioni approfondite e poi discuterle col proprio medico prima visita di controllo e mantenimento dopo i definitivi una volta terminate le cure è importante sottolineare che tutti i pazienti sono tenuti a effettuare la prima visita di controllo al policlinico di Bergamo questa visita è obbligatoria e rappresenta un passaggio cruciale nel processo di cura le nostre cliniche sono attenti a organizzare il trattamento in modo che ogni paziente possa tornare a casa con i denti definitivi prestando attenzione ai tempi di arrivo e partenza del paziente durante i mesi successivi alla conclusione delle cure diamo tempo affinché eventuali problemi emergano se presenti questi sei mesi sono fondamentali per valutare durante la visita di controllo la necessità di eventuali modifiche qualora siano necessarie le modifiche vengono sempre eseguite nella clinica dove sono state effettuate le cure iniziali in passato i pazienti dovevano tornare all'estero a proprie spese per effettuare questa visita di controllo ora grazie alla presenza del policlinico di Bergamo è possibile svolgere la visita in giornata a costi ridotti riducendo significativamente i costi di viaggio la garanzia copre le eventuali modifiche necessarie considereremo concluso il trattamento solo dopo la visita di controllo molti pazienti ritengono che con l'installazione dei denti definitivi il percorso sia completato ma essenziale attendere la visita di controllo è una riabilitazione che termina dopo sei mesi dal posizionamento dei denti definitivi problemi come la retrazione ossea dolori articolari muscolari fonetici estetici possono manifestarsi nei primi sei mesi quindi è cruciale effettuare la visita di controllo dopo questo periodo salvo in casi gravi con problemi eccezionali per l'assegnazione degli appuntamenti rimanete quindi in contatto con il nostro ufficio tramite telefono dove fare il mantenimento dopo cure dopo la prima visita di controllo il paziente può utilizzare il policlinico di bergamo per i successivi check semestrali obbligatori per mantenere la garanzia per maggiori informazioni visitare l'area dedicata rimozione della protesi durante l'igiene ricordiamo che dopo le cure effettuate all'estero durante il mantenimento quando viene effettuata la pulizia e lucidatura della protesi non si procede all'asvitamento della protesi per evitare di danneggiare le parti meccaniche sono rari i casi in cui è necessaria la rimozione e questa è sempre a carico del paziente per questo motivo sconsigliamo ai pazienti di fumare e consigliamo di adottare abitudini di vita corrette per non danneggiare le protesi con un uso improprio in tali casi i danni non verrebbero coperti dalla garanzia è importante presentarsi regolarmente ogni sei mesi al check up semestrale per evitare problemi gravi e anticiparli manutenzione presso altri dentisti ricordiamo inoltre che i controlli post cura sei mesi dopo il trattamento quindi dopo la visita finale di controllo possono essere eseguiti anche da altri dentisti tuttavia non avendo gli stessi interessi nel mantenere le protesi in ottime condizioni perché la garanzia viene fornita da noi consigliamo sempre Bergamo per questo motivo salvo casi in cui il paziente risieda in altre zone remote fate sempre riferimento a Bergamo in tal caso il paziente dovrà nel caso scelga altri dentisti dovrà inviarci l'attac tridimensionale la fattura della visita effettuata e una check list compilata con tutti i dati raccolti del medico con l'esecuzione anche dell'igiene è importante non confondere la pulizia con il check up dei lavori e inoltre è necessario fornire fotografie a distanza per identificare eventuali problematiche visibili consigliamo di rivolgersi al policlinico di Bergamo che offre facilità di accesso e costi nettamente inferiori rispetto ai risparmi ottenuti curandosi presso altre strutture è come comprare una Ferrari e poi non effettuare i controlli regolari che analizzano tutta l'auto invece di limitarsi a un semplice autolavaggio non bisogna confondere la pulizia dell'auto con la sua revisione sostituzione protesi negli anni a venire i lavori eseguiti presso le nostre cliniche sugli impianti dentali possono negli anni essere sostituite anche con linee differenti o addirittura nuove che tra dieci anni dovessero uscire in futuro ricordiamo che conserviamo i dati dei pazienti sui nostri server che possono essere utilizzati per riprodurre o rigenerare le arcate dentali anche in caso di problemi grazie al sistema bocca bionica vediamo ora le raccomandazioni del dipartimento clinico si puntuale puntualità prima di tutto evita di accumulare ritardi negli appuntamenti per non creare disagio agli altri pazienti evitate di mettere stress all'equip ci sono pazienti con gravi condizioni di salute e il fatto che non vi contattino per qualche giorno perché magari stanno producendo i denti non significa che non stiano lavorando sui vostri denti alla divisione ricerca sviluppo questa ha i suoi tempi i denti devono passare attraverso diversi dipartimenti per garantire la qualità durante questi periodi unitevi alle attività organizzate dal gruppo experience non assumete alcol e stupefacenti evitate di bere alcol o assumere sostanze stupefacenti il giorno prima dell'intervento e anche durante in passato ci sono stati casi in cui i pazienti sono stati rifiutati dall'equip e dall'anestesista per essere sotto evidente effetto di stupefacenti o alcol ricordiamo che per i pazienti ipertesi l'assunzione di alcol il giorno prima dell'intervento può portare addirittura all'annullamento dello stesso ci sono stati casi in cui i pazienti non sono stati operati poiché avevano bevuto una bottiglia di vino il giorno prima e presentavano una pressione sanguigna eccessivamente alta che avrebbe messo a rischio anche la vita del paziente in nessun caso l'equipe chirurgica avrebbe potuto operare mettendo a rischio quindi la vita del paziente canali ufficiali per dubbi e chiarimenti per qualsiasi dubbio o chiarimento usate i canali ufficiali evitate di ricorrere a dottor google o scrivere su facebook nel gruppo dei pazienti poiché le domande poste lì non possono essere risposte adeguatamente da altri pazienti avete a disposizione ben 80 medici chirurghi maxilofaciali cercate di utilizzarli grazie al vostro assistente di clinica mentre siete in clinica oppure dopo le cure attraverso il dipartimento del customer service o aftercare che vi metterà in contatto col vostro medico ogni caso è differente esistono tanti tipi di problemi che possono insorgere che vanno giustamente smistati indirizzati al dipartimento corretto evitate di perdere tempo o di farlo perdere o di farlo perdere o di farlo perdere o di farlo perdere